Prendete una delle più grandi città del Quebec, abitata da francofoni, anglofoni e altre minoranze linguistiche. Una città che al rigido inverno ha risposto con una fitta rete di strade e gallerie sotterranee, dove la vita ferve al pari della superficie. Immaginate ancora una città in cui l'architettura europea ha lasciato spazio alle più ardite ricercate costruzioni contemporanee. Questa è Montreal, una metropoli di contaminazioni e contrasti, uno spazio in cui qualità della vita, creatività e sperimentazione artistica sono i beni più intangibili e più ricercati. Fondato nel 1964, il Museo d'Arte Contemporanea di Montreal è tra le più grandi strutture canadesi dedicate alla conservazione delle opere contemporanee. A fianco di una nutrita collezione permanente che vanta oltre 7.000 lavori, il museo ospita diversi eventi legati al mondo dell'arte. Dalla New Dance al teatro sperimentale, dalle performance live alla video arte. L'amministrazione cittadina ha rivitalizzato il ruolo di Montreal, fornendo sostegno a giovani artisti di ogni parte del mondo. La città ha risposto spendendosi nella ricerca estetica e creativa in ogni sua forma, dall'arte al design, dall'architettura alla moda. Estetica e funzionalità, stile e qualità della vita hanno reso Montreal una delle città più eleganti e vivibili del Canada. L'amministrazione città e funzionalità